Sembra proprio non volersi arrestare l'ondata di contagi che sta interessando da quasi 20 giorni la città di Agropoli. Anche il bollettino della regione Campania ieri sera ha fornito dati allarmanti. 7181 i nuovi cittadini contagiati dal covid, numeri che non fanno ben sperare per un inizio d'anno sereno. Ieri sera l'Asl Salerno, Dipartimento di Prevenzione, ha comunicato di aver riscontrato nelle scorse 24 ore 23 nuovi casi di positività al covid-19 ad Agropoli. Al contempo si segnalano anche tre guarigioni. Il totale dei positivi attuali è quindi di 204 di questi sei non sono residenti nella città. Non si segnalano casi gravi. Gran parte dei nuovi positivi risultavano già in isolamento in quanto appartenenti a nuclei familiari in cui sono già stati riscontrati contagi. Invitiamo tutti a rispettare sempre le normative anti-covid e a indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune.